Una doppia operazione di polizia internazionale ha portato ad arrestare due latitanti pesaresi ricercati da anni. A finire in manette sulla costa pacifica di Puerto Escondido è stato un 61enne che si era rifugiato in Messico per sfuggire ad un provvedimento di carcerazione. Gli investigatori della squadra mobile erano infatti sulle sue tracce dal 2020 e avevano avviato una mirata attività investigativa avendo appreso informazioni sul fatto che l'uomo si fosse rifugiato all'estero. Grazie al servizio per la cooperazione internazionale di polizia che ha curato i contatti con la polizia messicana è stato dunque possibile assicurare alla giustizia del pesarese che si era macchiato di gravi reati quali lesioni personali, violazione di domicilio, sequestro di persona e rapina aggravata venendo condannato in via definitiva a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Analogo epilogo per un altro 36enne pesarese che era stato identificato in Finlandia dove si era trasferito per motivi di lavoro e che risultava ricercato in Italia perché destinatario di un ordine di carcerazione in quanto doveva espiare una pena di 3 anni e 9 mesi per reati contro la persona. Anche in questo caso la squadra mobile ha portato all'emissione di un mandato d'arresto europeo eseguito nei giorni scorsi e che vedrà il rientro in Italia dell'arrestato nei primi giorni di agosto.